No è bello trovarsi qui, è bello vedere più anche a largo raggio tutte le attività che sto facendo da questa mattina che poi sono arrivato soltanto questa mattina, veramente hanno una italianità spiccatissima nel paese un riconoscimento del paese importantissimo, questo weekend dopo c'è la concomitanza col Gran Premio quindi sono anche eventi legati alle case automobilistiche, sono venuto stamattina anche con il presidente Bonaccini per un evento della Motor Valley, quindi è un bel weekend di Italia qui a vari livelli Tu parli, abbiamo dei medagliati di Tokyo che è un altro pezzo d'Italia, è bella questa unione di pezzi d'Italia che parlano qui da noi Esatto, e che soprattutto parlano la stessa lingua che è quella dell'alta qualità in tutto quello che facciamo, fino allo sport pure quindi è veramente un bel segnale che diamo e devo dire che anche i numeri di cui stiamo parlando ora con il commissario Grisenti e gli accessi al padiglione dimostrano che l'investimento fatto non solo in termini economici pur importanti ma soprattutto in termini di impegno, di questo sicuramente lo devo ringraziare il commissario, sta dando i suoi risultati è un po' anche quello che ci hanno sempre chiesto gli emiratini, dare un seguito a Expo Milano sostanzialmente mi fa di capire che si sta riuscendo a farlo e quindi diciamo che il lavoro dall'ambasciata al commissario alla Farnesina sta dando i suoi frutti, mi fa di capire di cosa ci dobbiamo complimentare con il paese un'applicazione concreta del concetto di sistema paese